Benvenuto in MPS Monitor, la soluzione più completa per il monitoraggio e la gestione remota di stampanti e multifunzione. Questo tutorial ti mostrerà come associare i dispositivi alle sedi presso cui sono dislocati. La funzione Sedi permette di indicare al sistema dove sono fisicamente dislocati i dispositivi del cliente, in modo da migliorare il processo di spedizione dei consumabili. In molti casi, il sistema MPS Monitor è in grado di assegnare in automatico i dispositivi alla sede corretta. Per attivare questa funzione, è necessario inserire le informazioni sulla sottorete presente in ciascuna sede. In alternativa, l'associazione del dispositivo alla sede, dove è dislocato, può essere effettuata manualmente. Per ciascun nuovo cliente, il sistema crea automaticamente una sola sede di default. Le ulteriori sedi dovranno essere create dall'utente. Per visualizzare le sedi di un cliente e crearne di nuove, seleziona il cliente. Clicca poi su Sedi, nel sottomenu a sinistra, dove troverai la pagina con l'elenco di quelle esistenti. Per aggiungere una sede, clicca su Nuova sede. Visualizzerai una pagina in cui inserire un codice identificativo e una descrizione. Sono entrambi campi liberi, cioè puoi inserire qualsiasi informazione utile per identificare la sede con facilità. Puoi inoltre aggiungere alcuni dettagli utili, come ad esempio l'indirizzo postale, una mail, o altre informazioni cliccando su Inserisci dettagli sede. Dopo aver compilato i campi Codice e Descrizione, clicca su Salva. Se le stampanti di questa sede sono connessi a un'unica sottorete, può essere utile inserire questa informazione. Per farlo, espandi il riquadro corrispondente, poi clicca su Aggiungi. Inserisci il range di indirizzi IP presenti nella sede e clicca su Salva. Puoi aggiungere dettagli cliccando su Modifica in alto a destra e poi su Inserisci dettagli sede. Dopo aver compilato i campi, clicca su Salva. La nuova sede sarà visualizzata nell'elenco delle sedi appartenenti al cliente selezionato. Se vuoi abilitare l'associazione automatica dei dispositivi alla sede, clicca su Modifica e spunta il selettore Importa automaticamente le stampanti di questa sede. Clicca infine su Salva. Questo farà sì che il sistema verifichi continuamente che ciascun dispositivo è associato alla sede corretta. Se non hai attivato l'associazione automatica dei dispositivi alle sedi, ma vuoi comunque associare ciascun dispositivo alla sua sede, puoi farlo manualmente. Apri la scheda del dispositivo e clicca in alto a destra su Modifica. Visualizzerai così la pagina con tutti i dettagli relativi al dispositivo selezionato. Puoi associarlo a una sede selezionandola dal menu a tendina. Nota bene, nel cliente devi aver creato in precedenza la sede da selezionare. Dopo averla selezionata, clicca su Salva. Per clienti con uffici molto grandi è anche possibile inserire nel sistema una mappa dove collocare i dispositivi presenti nell'area. Per farlo, clicca sul riquadro Piani e mappe e poi su Aggiungi. Inserisci una descrizione, ad esempio il piano dell'edificio. Clicca su Scegli file, seleziona la mappa e clicca su Salva. Trascina ora i dispositivi sulla mappa, selezionandoli dalla tabella. Cliccando sul pulsante blu puoi cambiare la descrizione del piano. Cliccando invece sul pulsante rosso puoi rimuovere la mappa. Passando il puntatore sui punti rossi puoi identificare il dispositivo e, cliccandovi sopra, appariranno i dettagli. Per eliminare una sede, clicca sul codice relativo poi su Modifica, in alto a destra, e su Elimina. Per completare la procedura, clicca su Sì nell'apposita finestra. Con l'eliminazione di una sede, tutti i dispositivi ad essa associati verranno trasferiti automaticamente alla sede default. Grazie per aver seguito questo tutorial di MPS Monitor. Grazie per aver guardato il video.